Salute del Consiglio regionale della Toscana. Fra i primi punti affrontati il rendiconto del Consiglio per l'anno finanziario 2023 passa con i voti favorevoli di Partito Democratico, Italia Viva, Fratelli d'Italia. Contrari la Lega, il gruppo misto, il Movimento 5 Stelle si astiene a illustrare i numeri del rendiconto il consigliere Andrea Pieroni. I numeri ci parlano di una gestione sicuramente attenta, oculata ed anche efficace. Ciò è dato dagli aspetti di bilancio contabile in senso più stretto, anche il fatto che il rendiconto consegni al Consiglio regionale in questo esercizio 1.700.000 euro di disponibilità da poter utilizzare in maniera libera sia per spese di investimento che per spese correnti. Ma una tanto ci segnalano appunto come l'attenzione alla spesa e ai costi sia stata un'attenzione che ha prodotto anche risultati utili. Quindi io giudico questo positivamente, in quanto così come solitamente il bilancio viene condiviso dall'ufficio di Presidenza, ci possa anche essere in maniera condivisa l'utilizzo di queste risorse che noi potremo appunto usare in questo esercizio 2024. Così come è stato fatto anche in precedenza, allorché gli avanzi di amministrazione del bilancio del Consiglio sono stati utilizzati anche di volta in volta per esigenze, bisogni o anche emergenze. Ricordo ad esempio i contributi stanziati mesi fa nel 2023 per sostenere i comuni impegnati dalle alluvioni e da eventi calamitosi. Ecco, quindi le frequenti variazioni di bilancio che qualcuno in aula ha sollevato come elemento di criticità noi riteniamo invece che siano elementi che attestino una gestione attenta, proprio una gestione che guarda anche all'evoluzione dei fatti e destina le risorse in base anche alle esigenze che di volta in volta si presentano. Un avanzo troppo grande non è sinonimo di buona gestione, dice la Lega, che vota contro. Ci sono continui avanzi liberi, ormai da parecchi anni, che a nostro avviso testimoniano una scarsa programmazione e probabilmente anche eccessive risorse a disposizione del Consiglio. Peraltro sotto questo profilo abbiamo evidenziato la necessità, che avevamo richiesto già da tempo, di una dotazione per le proposte di legge e di iniziativa del Consiglio regionale, di risorse economiche da questo punto di vista, che invece non trovano ancora soluzione fra Giunta e Consiglio regionale. Alla luce di questo e alla luce anche di una difficoltà di programmazione di molti settori che non riescano nemmeno a spendere le risorse, abbiamo confermato un segnale negativo che avevamo già dato e abbiamo votato contrario. Non credo che questo possa essere considerato come mala gestione. Ecco, la discussione sul fatto di definire un fondo, come viene detto, un fondo leggi, è una discussione che legittimamente può essere fatta e credo che su questo si possa trovare anche un terreno di condivisione. E' chiaro che poi, così come si condivide il fatto dell'istituzione di questo fondo, è inevitabile che poi ci sia anche la condivisione sull'oggetto delle proposte di legge. Una larga maggioranza PD, Italia Viva, Lega, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto approva la nuova legge sulle disposizioni per il riconoscimento in materia di palestre della salute, strutture di natura non sanitaria, pubblico-private, in cui si possono svolgere i programmi di esercizio fisico strutturato sotto il controllo di figure professionali. La regione stabilisce requisiti strutturali ed organici che rendono tali strutture idonee ad accogliere i cittadini che presentano patologie o fattori di rischio sanitario. Una legge importante per la Toscana, una delle prime regioni d'Italia ad adeguarsi, nascono le palestre della salute dei luoghi dove si può fare sport in sicurezza, dove dei professionisti possono accompagnare gli esercizi fisici strutturati dei singoli individui che quindi hanno dei professionisti che possono dare dei consigli, possono dare un supporto, non soltanto laureati in scienze motorie ma anche laureati in scienze dell'alimentazione e non solo in medici dello sport. Spetterà adesso alla Giunta regionale definire criteri, metodologie, personale da assegnare in quelle palestre dove ci sarà un riconoscimento oggettivo, sarà una novità importante perché diventeranno luoghi di sport e luoghi di salute. Non è un'iniziativa di carattere sanitario ma la salute in questo caso si produce mediante lo sport che sviluppa prevenzione. Sono molto orgoglioso di essere stato il firmatario di questa legge che dà alla Toscana anche l'orgoglio di introdurre una novità importante. Nel mio intervento ho evidenziato quanto sia importante che non rimanga un esercizio sterile di stile perché la palestra della salute non deve essere un qualche cosa che dà una medaglietta a una palestra ma deve essere un luogo sicuro dove soggetti fragili vanno fiduciosi di poter in qualche modo essere accuditi laddove ci fosse dei problemi. Non è un studio medico né una palestra di natura medica, è un qualche cosa di sportivo per quei soggetti fragili che comunque vogliono mantenere un esercizio fisico adeguato pur avendo delle problematiche fisiche e conseguentemente sentirsi tutelati. Contrario il gruppo di Fratelli d'Italia che si è visto respingere un ordine del giorno che impegnava la Giunta a stilare un regolamento di attuazione che prevedesse, tra le altre cose, la presenza di spazi dedicati ad ambulatori all'interno delle palestre. Un'occasione persa. Noi siamo convinti che lo sport, specialmente per chi lo fa oltre 40 anni, sia soprattutto una pratica che serve a avere una salute migliore. Le palestre della salute sono una certificazione perché in alcune palestre si possono trovare anche dei servizi anziché no. E noi per esempio riteniamo che per avere la certificazione della palestra della salute si debba avere uno spazio dove ci possa essere un ambulatorio di specialisti, dove venga fatta un'attività diagnostica di bassa e media intensità, dove venga fatta un'attività di screening e di prevenzione, per cui se il consigliere Petrucci va in palestra nel tal posto, lo sa che lì può trovare una volta alla settimana, una volta al mese, la possibilità di fare un elettrocardiogramma sotto sforzo, la possibilità di misurarsi la pressione, la possibilità di avere una visita specialistica, piuttosto che fare un'attività di screening e prevenzione, anche a pagamento tutto questo, per scelta volontaria. Quindi se vado a una palestra Rossi, che è una palestra della salute, trovo anche questo tipo di attività, se vado a una palestra Bianchi non la trovo e in virtù di questo scelgo una palestra anziché l'altra. Un'occasione persa. Quindi su questo pensiamo che questa legge sia una non-legge che non serve a nulla se non a fare un esercizio dialettico e retorico e noi pensiamo che i toscani abbiano bisogno di alto, di scelte coraggiose anche in questo ambito. Voto unanime per le nuove norme sugli impianti sportivi. Il nuovo regolamento prevede che l'affidamento degli impianti avvenga in via preferenziale a società e associazioni sportive delle tantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionale. La normativa poi prevede che nella scelta dell'affidatario si tenga conto di criteri come la storicità sul territorio, del numero dei tesserati, con particolare riferimento al settore giovanile, dello stato di manutenzione degli impianti, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche, delle tariffe praticate, dell'organizzazione di attività rivolte ai giovani, alle persone disabili e agli anziani e ancora la qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e degli staff tecnici. È stato un lavoro che ha portato un risultato significativo, un'alimità, segno che il lavoro fatto è andato nella direzione di mettere i comuni, gli enti locali, nelle condizioni di lavorare meglio. Lavorando sui criteri, inserendo criteri nuovi o rimodellando criteri esistenti nella versione precedente della legge, a partire dall'ostrocità sul territorio, sull'impianto, la valorizzazione dei settori giovanili, degli staff, si punta a valorizzare quelle realtà che fanno una gestione attenta alle esigenze delle ragazze e dei ragazzi e a favorire i comuni ad avere quegli strumenti necessari per governare questo pezzo del loro territorio, gli impianti sportivi. Un pezzo assolutamente fondamentale nella crescita delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e di tutto il tessuto sociale che caratterizza e alimenta le nostre comunità. Gli impianti sportivi, questa legge regola la modalità di concessione degli impianti sportivi, ma noi pensiamo che sugli impianti sportivi vada fatto un lavoro differente. Noi in Toscana abbiamo pochi impianti sportivi, quei pochi sono tenuti male, a volte malissimo, non è mai stata fatta una programmazione, nemmeno un'attività comprensoriale, per cui nei comuni più piccoli, a due chilometri di distanza uno dall'altro, troviamo gli stessi impianti ripetuti, entrambi fatiscenti, anziché invece trovarne uno solo tenuto bene. Noi pensiamo che lo sport per i più giovani sia il migliore antidoto verso le devianze, verso le cattive pratiche, per poter far sport ci vogliono impianti sportivi. Ce ne sono pochi, tenuti male, e fino ad oggi non sappiamo nemmeno bene come siano stati dati in concessione, tra l'altro sempre ai soliti. Pensiamo che ci sia un grande tema, che sia quello degli stadi, delle grandi città, dei città e capoluoghi, che sono utilizzati una volta ogni due settimane. Noi pensiamo che si possono utilizzare anche per le squadre minori, per fare la finale del campionato, per giocare una volta un torneo nello stadio, avere quindi quel tipo di soddisfazione. Sono spazi pubblici, di proprietà pubblica, che vengono gestiti soltanto da alcuni, come se fossero degli spazi privati. Noi vogliamo mandare un messaggio molto, molto forte alle giovani architette, ai giovani architetti. Il messaggio è state sempre sulla frontiera del cambiamento. La Toscana è terra di arte, è terra di storia, è terra di cultura, è terra di bellezza. E noi dobbiamo preservarla. Ma la Toscana deve avere la capacità anche di pensare alle città del domani. Alla Palazzina Reale di Firenze è la quarta edizione del premio Architettura Toscana, promosso dal Consiglio regionale, dagli ordini degli architetti di Firenze e Pisa, dalla Federazione degli architetti della Toscana, dalla Fondazione Architetti Firenze e Ance Toscana. Un premio all'architettura contemporanea con particolare attenzione alla sua funzione sociale. 119 i progetti esaminati dalla giuria composta dagli architetti Michele De Lucchi, Michele Carlana, Francesco Isidori, Claudia Mainardi e Emanuela Saporito. Quello di interrogarsi su cosa possa essere oggi un premio di architettura. Nel senso che forse più che uno strumento utile all'autocelebrazione di una categoria dovrebbe essere un tramite per chiedersi attraverso una comunità quale sia la direzione futura delle città o dei luoghi. I criteri che abbiamo scelto con la giuria con cui è stato fatto un lavoro molto interessante e molto condiviso è stato quello di scegliere dei progetti che potessero essere dei piloti e quasi dei pretesti per ragionare sui luoghi. Per monitorare quello che sta succedendo a livello regionale per quanto ci riguarda per quanto riguarda l'architettura e per quanto riguarda soprattutto anche la bontà dell'esecuzione e della qualità della commessa. Quindi direi che il risultato è un risultato quasi inaspettato per certi versi. La qualità è assolutamente molto alta. Abbiamo visto una certa quantità di progetti promossi dalle amministrazioni. Questo ci fa molto piacere. Ci sono anche diversi progetti che sono il risultato di un concorso. Quindi da questo punto di vista qualcosa si sta muovendo e siamo molto felici di questo perché è il nostro obiettivo principale. Una iniziativa, commenta il presidente del comitato organizzatore che testimonia la ricchezza e pluralità nel panorama della ricerca architettonica nella nostra regione. È un premio che vuole premiare l'architettura come opera collettiva in cui committente, progettista e impresa costruttrice vengono premiati tutti insieme come soggetti fondamentali per la realizzazione di un'opera d'architettura. È un'edizione che ha visto la partecipazione di circa 120 progetti. La novità di quest'anno rispetto alle precedenti edizioni è stata l'organizzazione di un corso di progettazione per l'allestimento della mostra itinerante che inizia oggi e che nei prossimi sei mesi girerà tutta la Toscana. Allora, l'idea è nata dal fatto che abbiamo tutti e tre vissuto a Parigi e alla Scuola di Architettura di Parigi o meglio, l'Ecole des Beaux-Arts già nel 1700, correggetemi se sbaglio, c'è questa cultura del lasciarretto ovvero fare le nottate a scuola per consegnare il proprio progetto la mattina seguente e il carretto, la sciarretto quindi era il mezzo che veniva utilizzato per trasportare queste tavole enormi che erano realizzate al mano spesso all'ultimo momento erano ancora sgocciolanti magari e quindi andavano portati in una maniera che si potessero asciugare prima della presentazione della mattina seguente. Siamo partiti da questo concetto abbiamo sviluppato questi moduli espositivi come dei carretti facili da trasportare soprattutto perché l'esposizione poi sarà itinerante in tutte quante le province della Toscana e facili da montare con dei materiali comunemente facili da trovare in cantiere quindi strizzerà anche un po' l'occhio agli addetti ai lavori. Cinque le categorie previste dal premio opera prima, opera di nuova costruzione opera di restauro e recupero opera di allestimenti o interni opera su spazi pubblici paesaggio, rigenerazione sei i premi considerato quest'anno un ex equo ed eccoli i progetti premiati la casa dell'architetto a Collodi in provincia di Pistoglia la biblioteca della scuola normale superiore di Pisa la cantina di Guado al Tasso a Castagneto Carducci in provincia di Livorno Factory e la Giunti Odion a Firenze Borgo Torri a Sovicille in provincia di Siena Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione!